Sabato pomeriggio a Rivarolo un incontro per parlare di prevenzione del tumore al seno. L'arma vincente contro il tumore è proprio la prevenzione. Sì, noi abbiamo avuto la possibilità di organizzare, e dico noi in qualità di rappresentanti della Lilt di Rivarolo, grazie al grandissimo aiuto dato dai membri della SL4, abbiamo avuto questa possibilità di organizzare questo incontro mirante proprio a valutare l'importanza della divulgazione per affrontare anche un'esperienza come può essere quella di un processo oncologico. Chi sarà presente alla giornata? Allora, innanzitutto ci saranno delle autorità e poi comunque è stato organizzato con, ripeto, il grande aiuto dato dal SL4, la Breast Unit, per cui si parlerà di quello che si può fare a livello di prevenzione primaria, che è il cardine della Lilt, perché c'è tutto questo avvenuto chiaramente grazie all'aiuto dato dall'ASQUATO, ma chiaramente grazie alla Lilt, che è la Lega Italiana Lotto e Tumori. Quindi si parlerà di quello che si può fare a livello di prevenzione primaria, ma anche di prevenzione secondaria o anche terziaria. spiegandomi quello che può essere utile sapere prima, durante ed eventualmente dopo aver dovuto affrontare un'esperienza di questo genere. Anche l'alimentazione e il tipo di vita può influenzare o meno questo tipo di malattie? Sicuramente, perché ormai è risaputo che nella genesi di un processo tipo oncologico ci sono tanti fattori, quindi la genesi è assolutamente multifattoriale. Però ovviamente, soprattutto a livello di prevenzione primaria, tutto quello che è un discorso di nutrizione corretta, di sapere quali sono gli stili di vita considerati più adatti a mantenere uno stato di salute è assolutamente importante. Questa è una giornata quindi importante sicuramente per le donne, perché purtroppo tocca loro personalmente questo problema, ma anche per chi sta a loro vicino, alle loro famiglie e in generale. Quando una persona deve affrontare un'esperienza di questo genere, in realtà chiaramente condiziona tutte le persone a lei care. Però c'è anche da sottolineare che in certe situazioni, chiaramente dopo aver preso coscienza di quello che uno deve affrontare, ci si trova in una situazione proprio di non sapere che cosa fare. E in realtà la LILT, la Lega Italiana Nota Tumori, ha anche come obiettivo quello di supportare un percorso di questo genere, dando eventualmente la giusta assistenza.